Sugar Media, Real International Allora, abbiamo due international su questo, due international ma chi vince? La host, Spurgeon, Tremeline e poi Ah, sotto se Real International, Green Vortex Praticamente, tu metti da fuoco La congegna, giusto La igienizza, fa un sacco di cose Ma le scopriremo, anzi L'avete già scoperto Complimenti ancora voi, vi do la sinistra Perché le altre mani sono impegnate Per cercare di sedare il nostro Bodo Ecco, vedete Ecco, vedi Dobbiamo rifare tutte le foto Perché il prezzo è sempre Vortex Vortex Ecco, la faccia da Vortex Grazie ancora Grazie Allora Il conduttore Corge la host 14 buste E basta Attrezzature per la preparazione Stefano Allora Siamo nell'attrezzatura per la preparazione Bacca 19 C'era il tavolo C'era il tavolo C'era il tavolo Grazie E' un bel servizio Alfa pizza Brita